Nuovo video della vita in città, ci sono tantissime novità quindi non dobbiamo perdere tempo Ma ormai questa è la frase che dico sempre, quasi dico più questa frase di campioncini Devo dire che è un po' pericoloso, però la realtà è sempre pieno di novità in questa serie e ve le devo mostrare In primis, come potete vedere, abbiamo reso più colorato e più bello lo zolo, abbiamo reso molto più acceso I blocchi sono decisamente più belli ed è migliorato un sacco Inoltre sono comparsi degli avisi, dei banner se vogliamo chiamarli così Che ti fanno sapere esattamente il costo del biglietto, perché è una cosa ovviamente molto utile Se vuoi andare allo zoo, non sai esattamente quanto costa, almeno arrivi e lo scopri subito Guarda come lavora bene Mattia, guarda come lavora bene Sei un ottimo dipendente Mattia Sei un campioncino dipendente, proprio così, sì non so se esiste però Ma guarda che bello Oh la jeep, Steph, io ho sempre voluto la jeep, perché non abbiamo la jeep, siamo sempre poveri in questa serie Steph Ferre non lo so, qualunque cosa facciamo non diventiamo ri, rubiamo pure, neanche così No Ferre non puoi, ciao Gabby Ciao Gabby, voglio la tua jeep Comunque se vedete anche Gabby sta costruendo il suo parco giochi e sta diventando sempre più interessante Infatti probabilmente dopo andiamo a visitarlo un po' Ferre, una cosa importante, teoricamente, belle le nuove insegne Bravi, grazie mille Gabby, anche il suo parco giochi sembra che stia venendo molto bene Quindi poi andiamo a darci un'occhiata Assolutamente, teoricamente Serena dovrebbe aver portato una cosa che ho richiesto Ovvero il sugar lump Che è, non so se lo sai Ferre, è semplicemente lo zucchero che si dà agli elefanti Hai mai dato lo zucchero agli elefanti da bambina? No, perché si dà lo zucchero Sì Loro mangiano lo zucchero super volentieri Ah, sapevo questa roba È una cosa molto carina Sai che cosa serve Ferre in questo caso? Ma davvero? Sì, sì, sì Lo farei su Minecraft questo oggi Tieni, tenendo esattamente dieci Perché ho letto dalla mia Wikipedia WikiHow Che se dai dieci di quello zucchero agli elefanti Teoricamente riesci ad adomesticarli Ma che bello Lo so Gli piace così tanto Sì, sì, sì Così sia gli elefanti che i procioni saranno i nostri amici E solo le pantere ci odieranno Vabbè, ma le pantere sono sempre nervose Lasciali in pace Eh, le piaccio io Lo sai che sono così Hanno fame Eccoci qui Questo mi sembra diventato bello grande Eh sì, guarda rispetto all'altro, Steph È cresciuto Complimenti Qua, sei altissimo Allora, vediamo se funziona davvero Ehi, ti va di mangiare? Sta mangiando? Sì Si sente che sgranocchia Aspetta Devo riuscire a dargliene altri Ok Sì Posso dargli un nome? Decidi il nome, Steph Ehm Molly Bello, mi piace Vero, è un nome d'elefante secondo me Sì, 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 sì Anche secondo me è un nome d'elefante Ok, fai veloce anche l'altro Ok Vai, vai, vai Che se no è geloso poi, poverino Tieni Funziona Sì, sì, sì Sì, sì, sì Posso dargli il nome? Dimmi un nome Ehm Un nome, un altro nome d'elefante Lui è maschietto però, suppongo Maschio e femmina Facciamo la coppia No Perché non ci pensiamo prima? Vi devi avvisare Non lo so Io faccio schifo a dare i nomi Muoviti Un nome d'elefante maschio Se tu nella vita avessi un elefante, Steph Come lo chiameresti? Un elefante maschio Steph Ehm Lo chiamo Nino, te lo giuro, eh No Steph, lo chiamo Nino Non farete scemenze Forse lo chiamerei Jumpy, tipo O Giungi Non lo so Qualcosa con la G Perché Giungi? Non lo so, qualcosa con la G Ehm Gino No Gino è carino Gino, dai Gino Gino Gino, sono d'accordo Perché no? Gino è carino Comunque, Fede C'è qualcosa che non va Gino l'elefantino Che non è campioncino No, è un campioncino Perché cresce adesso Eh no Guarda, l'altro è molto più grande Steph, ognuno i suoi tempi Scusa Ho capito, ma li abbiamo fatti arrivare allo stesso periodo Erano grandi uguali Che poi non ha neanche mangiato tutto lo zucchero Il tuo ha mangiato tutto lo zucchero Sì Il mio ne ha lasciati tre Non ne ha più voluti Ah, vabbè Li vuoi che magari cresci? Tieni 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 Mangia lo zucchero Non ne vuole più Non ne vuole più Allora, Molly è diventato un elefante adulto Secondo me Perché è veramente gigante Penso sia un adulto Mentre Gino Al momento mi sembra ancora nella fase di intermezzo Probabilmente è un elefante adolescente E Gino l'elefantino Gino l'elefantino Quando sarà Gino l'elefantone Come andrà? Non farà più rima, Fede L'elefantoneino Va bene Usciamo fuori Altra novità da farvi vedere Comunque Adesso sono addomesticati Quindi Tanto di capello Un'altra cosa importante Abbiamo aggiunto delle immagini Che ti fanno sapere Ovviamente delle informazioni importanti Sugli animali che abbiamo Come il riverizzo Che si rispettano Esatto Perché così Non solo guardi gli animali Ma impari anche qualcosa di importante Quindi secondo me è una cosa carina Questo è quello dell'elefante Adesso vi faccio vedere gli altri Per chi ha l'occhio più attento Abbiamo cambiato anche i blocchi Dei recinti Che sono un pochino più carini Sì Qui abbiamo il procione Ferry ha scelto la foto purtroppo Allora Hai presente la posa Che utilizzano i coreani Quando si fanno i selfie E mettono le mani così In faccia è uguale Dimmi che non è uguale Lui sta ridendo È pronto per fare un selfie Farire solo a te Se volete leggere le informazioni Bloccatevi lo schermo Perché non posso stare qua Sei mesi E adesso vi faccio vedere Ma che antipatico Dovresti leggere anche tu Per farti un po' di cultura Steph Ma la la Tipo nelle pantera Avrei dovuto scrivere Loro cibo preferito Sono le gambe di Steph Questa è quella Della pantera nera Che io aggiungerei Pantera nera antipatica Non lascerei solo pantera nera Oppure Mordi chiappe di Steph Comunque Steph Leggi questa cosa Metterai in azione La poderosa Mascella con i denti Capaci di strappare Persino la pelle Di un elefante È una minaccia Vogliono combattere Fere No è per dire che Abbiamo fatto bene A mettere le pantera Da una parte E gli elefanti All'altro estremo Opposto Perché porca miseria Sono ferocissima Allora Teoricamente Abbiamo fatto questo Le informazioni animali E i cartelloni pubblicitari Che adesso Vi faremo vedere Perché Fere Io come sempre Ho il mio Tacquino Lo vedo La tua to do list Esatto Allora Quindi se noi Ce ne andiamo E usciamo fuori Ok Lasciamo pure aperto Beh devo guardare Anche quanti soldi Abbiamo un quad Lì Prendi Esatto Salta su Ok Ho ancora una nostra felpa Me ne sono resa conto adesso Tu avevi detto Che attenevi Solo un episodio È bella Fa caldo Steffi Ho un po' colpito La tua guardia Ho sempre freddo Scusami Fa bel calduccio Ok Va bene Allora Guarda che meraviglia Guarda 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 Questi Sono ovunque In tutta la città Li ho pagati 101 Mark ci ha insultato Penso che abbiamo Tipo quasi investito Un pedone Vabbè Vabbè Aspetta che Sto cenando Con la ciambella Dicevo Ne ho messo 4 in tutta la città Per un costo di 101 Quindi ho speso 400 Dai non male E serve ovviamente A pubblicizzare lo zoo Per cercare di attirare Novi clienti Quindi è arrivato Lo zoo in città E l'hai messo nella nostra vecchia Cervelleria Non è più vecchia È rimasta nostra Fere Come rimasta Non l'abbiamo venduta Non l'ho più venduta Perché A parte che tu Ti eri un po' lamentata Ma ho trovato un modo Per gestire tutto Senza impazzire Vero Continua a seguirmi Continua a seguirmi Va bene Va bene Sono molto curiosa Adesso andiamo a dormire Ti lascio un po' di curiosità Però è una delle tante novità Di quest'oggi Fere Una delle tante novità Allora Un attimino Che parcheggiamo Bim 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 Perfetto Lasciamo chiuso qua Che se no arrivano i ladri Andiamo a dormire a casa Beh ci sta dai Una volta ogni tanto Che se no sembra sempre un campeggio qui Esatto Che cavolo Ogni tanto C'è bisogno Fere ma Sei scomparsa Ma come sei scomparsa Sei dentro il letto Ma io sono qui Prova a ricordicarti No Fere Perché vado sotto le coperte No 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 Esci Guarda dove finisco Mi vedi buggato? Sì Hai visto dove era la mia testa? Non è proprio comodo Dormire in questo letto evidentemente Dobbiamo fare un reclamo a Ikea Steph Sì Abbiamo comprato l'Ikea di Mark Non ci avevamo fatto a casa Perché lavoravamo sempre Non dormivamo mai Esatto Eravamo degli staccanovisti Invece ora ci rendiamo conto Che qualcosina non va Quanto sei curiosa da 1 a 10 Di cosa abbiamo di nuovo Per poter gestire ancora la ciamballeria? Molto Abbiamo un manager Ho indovinato? Sì ho indovinato Quasi Un quasi manager Mi hai rovinato la sorpresa Sono molto triggerato Andiamo a dormire Però adesso Mi hai fatto un po' arrabbiare Devo essere sincero Buonanotte a tutti Notte notte Fere Cosa cavolo hai fatto? L'ho fatta io Steph Oh mio dio Oh mio dio Aiuto Vabbia uscire Che schifo Perché sono entrati dei serpetti Nella nostra stanza Io non c'entro niente Steph Cosa vuoi da me? Perché ti incolpi giustamente? Perché hai fatto questa cosa? Non l'ho fatta io Eravamo solo io e te Mi sono addormentato E mi sono giugliato con serpetti Steph avrei lasciato una finestra aperta Scusami Fere Sei una cretina Te lo dico E non lo rimpiango di dirlo Non so cosa voglio dire Cos'hai detto? Ti evoco degli squali in testa Fere Non puoi Morirebbero Prima ti mozzicano E poi muoiono Eh Steph Sono arrivati nello zoo Ho deciso di spendere i miei soldi Per farti una sorpresina Fere Vai a farli fuori Io pensavo sarei No Steph Fere vai immediatamente Fere Steph poveri Io non dormo mai più lì dentro Ma che criminale è stato Lasciali in casa Anzi sai che ti dico Lasciamo aperto e se ne andranno in giro No Magari ti seguiranno Secondo me si sono già affezionati a te Che dici? Steph Non provare a murare la porta Steph Steph non ci provare Così va bene Allora Non so non aprire le porte Non hanno le mani Io te lo dico Non ti perdonerò per questa cosa Io ti avviso Non ti perdono Secondo me Steph Stanno tutti ridendo E anzi mi stanno chiedendo Di comprarne quattro La prossima volta Fere Quindi Stanno chiedendo gli squali No no Ne stanno chiedendo altri Io ti avviso Allora Il nostro passaggino segreto è qua Ce la fai? Sì Devo capire dove è l'ingresso Eccolo Tu lo sei a memoria Io no Non rompere Il mio segretario Fere Scusa mi dispiace Mi dispiace Mi dispiace che ti è capitato questo lavoro Purtroppo non tutti nella vita riusciamo ad ottenere il lavoro che ci piace Il tuo caso è proprio uno dei peggiori in assoluto Mi dispiace Fa un lavoro incredibile Se tu ci parli Ti dice Il guadagno della giornata Ti dice che è andata a prelevare il tuo affitto da 200 Ha preso 1000 euro dalla ciambelleria Con i quali ha pagato la merce 100 I dipendenti 100 E il mutuo 500 Per un totale di 700 Ha raccolto da lì nei soldi Le negozi di animali Ovvero 550 Perché lei fa tutto il resto da sola Ha pagato Mattia 200 Che è quello che lavora la biglietteria E si è tenuto lui 200 Perché ovviamente lo pago 200 ad episodio Il nostro guadagno totale Di 650 E se io premo Mi fa in automatico Il give dei soldi Ma Steph Voglio un dipendente così Che nella vita reale È super efficiente Abbiamo guadagnato 650 Ha pagato lui direttamente il mutuo della ciambelleria Ha fatto direttamente tutto lui E se ci parli in qualunque altro momento Non puoi riprendere i soldi Perché ovviamente Ce ne ha già dati Però se ci parli Puoi vedere comunque il recap Non so se ci hai parlato Ci hai parlato Sì ci ho parlato Visto tutto Steph Hai visto quanto efficiente è Joelle Per quello ti ho detto Quello vorrei nella vita reale Perché ci ho parlato È un campioncino Seconda cosa Fere non ti ho portato qua solo per lui Era soltanto un bait lui Anche se è una novità incredibile Che ci permette di gestire tutto in modo comodo Se tu marchi qua Ma no Steph Ancora Cos'è adesso Sembra vuota Sì è vuota Ok e quindi che cos'è Fere? La stanza delle torture No Dove chiudi i tuoi nemici? Fere Non lo so Sono qui per annunciare a tutti Sia a te che al grande pubblico Che Steph Sta preparando la prima televendita del 2020 Mia cara E che mercoledì Questa televendita sarà completa E scopriranno Fere Il primo oggetto del 2020 Dei two players fan console Ma nella vita reale E sarà la televendita epica Nella vita reale Lo devi specificare che Perché voglio chiarire subito una cosa Io l'unica cosa che vi chiarisco oggi E questo è un mezzo spoiler E che questo oggetto del 2020 Non è qualcosa che abbiamo già fatto Quindi non è merchandising E quindi non è il secondo libro Preparatevi perché è qualcos'altro Ed è roba Esatto specifica Che quindi esce davvero nella vita reale Non solo nella vita Tutti pronti per la televendita Comunque Steph In effetti ci sta Io sono d'accordo Perché ho sentito un sacco di lamentele E reclami sulle tue televendite Ovvero che non ne stai più facendo Fere Li distruggo Cioè sono tutti trissimi Non se l'aspettano talmente tanto Che quando la vedono piangono Ok Ok Io non ho altro da dire Che ti ripeto tutti i giorni Alla Steph Mi è capitato di leggere anche un sacco di commetti Su Instagram Che chiedono le tue televendite Dovevo prepararne una doc Andiamo Eh ovvio ovvio Quindi preparatevi a mercoledì Comunque prima di mercoledì Ci sarà qualche indizio su Instagram Eccetera eccetera Quindi seguite Sento ancora i rumori di serpenti Chi Steph? Scusa Io non ti so porto Uccellini? Sì li sento anche io oggi gli uccellini Belli Bel canto Andiamo Andiamo Ma c'è qualcuna nel nostro garage? Non lo so Chi è? No Ah ok Sono gli serpenti che stanno provando a guidare il motorino Ti giuro vi sono scritta Pensavo c'è qualcuno Ma stai passendo Steph Può essere Può essere Allora Andiamo Forza 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 In effetti mi sono dimenticato di vedere Quanto abbiamo guadagnato Dal nostro zoo Che è rimasto aperto appunto con Mattia Che ha venduto i biglietti Quindi sono curioso E tra l'altro mia cara fare Dobbiamo fare l'abitate degli elefanti Se ti ricordi Perché l'abbiamo lasciato in sospese Poverine hanno soltanto il loro pozzetto Dove fare Cosa fanno gli elefanti in acqua? C'era scritto nel cartello Non l'hai letto? Non l'ho letto Praticamente Loro hanno bisogno Aspetta che mi punta fame Te lo dico io Mentre mangio Anch'io ho fame Loro hanno bisogno di acqua Non solo per bere Ma anche per rinfrescarsi Perché soffrono molto il caldo E quindi loro si rinfrescano nell'acqua Ok Fine Ok C'era scritto nel cartello Molto interessante Non so perché non leggi i cartelli Ciao Mattia Saresti un proprietario di zoo Molto più serio Fine Ok Allora vediamo un attimino Quanti guadagni abbiamo 22 per 20 Allora E 20 per 10 Farebbe 200 Quindi siamo a 440 Se considerate Che dovevamo pagarci L'episodio scorso suo E questo episodio Bene o male Con lo zoo Sembra che stiamo All'incirca andando in pari Che non è male Non è male Non è male Poi io sono molto contenta Dello zoo Mi sta piacendo tantissimo Gessimo gestire uno zoo Sono molto felice E quindi ci sta Anche io fare Allora Altra cosa che dobbiamo fare Mia cara Serena Ho visto che hai dei nuovi alberi Sembrano veramente belli Quindi ne vorrei acquistare alcuni Quanti ne prendiamo fare Per la zona degli elefanti Quanto costano? 40 l'uno Io pensavo a 4 Li volevo mettere ai lati 4 o 5 Anche 5 Se li vuoi prendere Se li vuoi spendere Quei soldi Perché pensavo Io avevo già in mente Ovviamente un'idea Di metterli ai lati Quindi di non disturbarli Magari nella zona vicina Fino al laghetto Perché poi ovviamente Non riescono a farsi il bagno Magari si incastrano In mezzo alle piante Quindi li voglio mettere Molto agli estremi Ok Proviamoci Sono curioso di vedere come va Allora Facciamo così Al momento E andiamo A piazzare Questi alberi Che Se conosco E se ricordo Sono molto interessanti E potrebbero starci Veramente Veramente bene Con gli elefanti Comunque Aspetta che rileggo Una fonte d'acqua vicina Per bere E anche di fare il bagno Per ridurre il calore È vero È vero Ti ho scritto davvero Ok Non mi fidavo Non mi fidavo di te Allora Vediamo Un po' di piazzare Gli alberelli Vedi Cioè tu entri qua Nel recinto E sei contento Perché non hai paura Di essere azzannato Esatto Per dimmi un po' Allora Forse io ne metterei Tipo Uno qui Questo Oppure forse Sì dove vuoi Dove vuoi Io lo metterai qua Eh ci sta Allora Poi uno da questa parte Magari qui E dai Però che sfortuna Bene Non cresce Dai Non è che ha bisogno Aspetta 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 Ha bisogno di più spazio Forse Raga Ma ha bisogno di più spazio Vi ho fatto qualche fail Scusate Perché nel terriccio Non crescono È ovvio Allora Anche qui bisogna Quanto è bello Sto albero Molto bello E magari lo potremmo Andare a mettere qui Ok Vai Wow Questo è cresciuto Istantaneamente Che belli Ne andrei a mettere Magari uno Tipo No qui al centro No Andiamo lì ai lati Andiamo lì ai lati Secondo me invece No Non gli voglio Disturbare nel laghetto Qui Sì Ok Uno Due Tre Quattro Cinque Opla Guarda quanto riempiono bene L'ambiente Sì 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 Tra bello E magari l'altro lato lì Troppo vicino Secondo me Qui 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 Questo Sì Troppo vicino alla sinistra Ci provo Ma secondo me non va E invece sì No è andato Ok Bello E l'ultimo Però tipo qua in diagonale Sì Guarda forse qui 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 Perché se no poi gli osturiamo il passaggio dall'altra parte Aspetta che si sta mettendo Signor Molly Anzi signorina Molly Signora Signorina Signorina Oh Oh Ti ho dato da mangiare Non ci stiamo dimenticando cosa è successo Benevole quest'albero Secondo me No altrimenti anche qui è bello Guarda vieni da questa parte va Qua Sì Qua così Sì 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 C'è anche più spazio da questa parte Non gli piace Aspetta non gli piace Spostalo Prova più in qua Ecco Così è perfetto Ok quindi il risultato attuale è questo Non lo so Schermai ancora un po' vuoto Io sai cosa volevo mettere Volevo mettere un pochettino di erbetta attorno Sempre con la bon meal Però non so se riempirlo troppo di alberi Magari questo ce lo lasciamo consigliare Ok Ok Va bene Perché allora se tu guardi Gli habitat degli elefanti nella vita reale Non stanno mai troppo in mezzo agli alberi Capito Perché loro poi capessano Quello certo Però mi sembra proprio un po' vuoto il posto Però guarda con l'ermetta Giacomo è più carino Guarda da qui Beh certo che migliora È molto più carino Quello Vediamo Proponeteci se volete altri alberi o qualche altra cosa Proponete Comunque al momento risulta così Devo dire che è veramente carino Non so cosa mangiare Perché in ogni caso rovinerei Quindi mangerò questa Ferre non potrà capire E ora di cena E infatti ho di nuovo un sacco di fame Ma Steph Che c'è? Stai mangiando carne cruda Quella è la carne per le pantene Lo so faremo 23 di un tipo di ciabelle E 17 dell'altro Stai mangiare la carne per le pantene È vero? Che schifo Ah è vero che era quello No Ora mi odieranno ancora di più Esatto Sentiranno l'odore di quello che ho mangiato Esatto È quello che ti stavo dicendo Io oggi non li do la mangiare Ferre Mi dispiace Te lo dico già Che maledetto Secondo i procioni mangiano le ciambelle Sì Ma li fanno male probabilmente Nel cartello c'è scritto che mangiano di tutto Ho capito Hanno una dieta molto variegata Vieni vieni a leggere C'è scritto Anche donut No quello non c'è scritto Però secondo me sì Guarda vedi Dove? Questo animale ha una dentatura adatta alla sua dieta variegata Ha una mandibola composta da 40 denti Quindi io direi Che si può mangiare delle ciambelle con 40 denti Allora Proprio non dovete sapere Va bene va bene va bene Ferre andiamo a dormire Io dormo con i procioni stanotte Davvero? Sì Voglio dormire con i procioni Io dormo qui fuori Va che non me la sento Dormo con i procioni Ciao Steph guardami Opla 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 Ma che abito l'ha scritto in tedesco? No? Che bello Eh vabbè che bello Nottes Scrivili Non nottes Dovevi scrivili in un'altra lingua Vabbè Vabbè Spagnolo Qualcuno si rifiuta di dormire Perché non ha fatto molto ridere la mia battuta Anche secondo me Steph Scusate Gli hai fatto passare il sonno Ma chi è? È Mark che manca Oh finalmente Eccoci qui Ciao procioni Dai Ferre Ma non puoi dormire così Non puoi comportarti in questo modo Chi mi ha detto che io non posso dormire I clienti Cosa penseranno di te? Allora Steph Tu nella vita Dormi con i gatti Io dormo con i procioni qui dentro Cosa c'è di male? Tante cose Scusate Ditemi un posto Ci vedete qualcosa di male Non c'è niente di male a dormire con i procioni Creare abita Telefanti Fatto Ci manca Trovare una mascotte L'inaugurazione L'inaugurazione non lo so Dovremmo organizzare un banchetto Cioè non mi sembra che siamo pronti a fare l'inaugurazione Secondo me dobbiamo È troppo presto Espanderci ancora un pochettino Noi puoi inaugurare e facciamo una festa con tutti quanti Esatto Mark, March, Gabby Esatto Esatto Del genere Vediamo se c'è qualcosa di negozio di vestiti Cosa c'è? Anche qua L'ho vista L'ho vista Proprio di fronte a casa nostra poi C'è un vestito che è perfetto Ne sono più che sicuro Fatemi vedere un pochettino Non c'è Non è possibile Ordinalo Steph Ordinalo No, 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 no Qua quando mi fanno arrabbiare Ci penso io Aspetta Lo vedi tu? Non so quale stai cercando Steph Quello da orso Fere È perfetto Ma qua già ne manca uno Cioè probabilmente qualcuno se l'è già preso Steph Non lo so Dici che hanno preso proprio quello Io so che c'è L'ho visto Sto arrivando mia cara Fere Ecco la mascotte Steph Dove te lo sei tirato fuori? Eh no Ce l'avevano in magazzino È colpa tua Alessia Vero? È colpa tua che gli hai dato ascolto E l'hai tirato fuori dal magazzino Vero? Sono una mascotte bellissima Perché non hai esultato? Allora la mascotte è carina Ma non mi va bene che sia tu Perché sei strano Voglio esserlo io Dammelo Dai No, dammelo subito Ammelo subito Ma perché? Io sarò la mascotte del nostro zoo Perché al momento Sì Steph Al momento non abbiamo soldi Per altri dipendenti Ma non è vero Non abbiamo soldi Sono una mascotte Anche così posso essere Guarda posso anche cambiare No In base In base alle situazioni No assolutamente Sarò la mascotte dello zoo Evviva 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 Rimango vestita così Ho cambiato idea Non voglio più la felpa Rimango vestita così Mi devo mettere all'ingresso Tipo con cartellone in mano E dire Ehi No No Deve farlo qualcuna Tra l'altro non puoi essere tu Arrenditi Non è giusto Allora Sali andiamo Forza 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 Comunque assumeremo un dipendente Che sarà appunto La mascotte ufficiale del nostro zoo Che teoricamente dovrebbe Non lo so A cosa serve? Mi sa per intrattenere i bambini Vero? Esatto Esatto Per fare le foto Per fare le foto Mi sta guardando Mi sta guardando Vuoi fare una foto Con la nostra mascotte? Per quello che mi sta guardando Capisci? Certo Gabby è immobile Non sa cosa rispondere Pensavo che Ancora Steff Va bene Fede Fatta Vedi 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 che funziona Avere la mascotte Io te l'ho detto subito È veramente efficace Questa cosa Trova il fitto di essere Coraggio Vedi Steff È ottimo Questa mascotte Ha già funzionato Figurati sui clienti Che figurole Sì Sì Non vedo l'ora Di prendere un dipendente Per averla Dobbiamo decidere Poi dove posizionarla Cosa farà Eccetera Però Sicuramente Sarà il costume Della nostra mascotte Noi Per questo video Della vita in città Ci fermiamo Speriamo che vi sia piaciuto Vi inizio già a dire Che il prossimo episodio Potrebbe essere molto particolare Perché potremmo Per la prima volta Da quando esiste questa serie Andare molto lontano Con un viaggio in aereo E dove andiamo? Andiamo Lo spoilerò Non lo so Io non so Doviamo andare Non mi piacerebbe Anche prendere l'aereo Steff Quindi dimelo Andremo molto lontano con l'aereo In un safari Bello Ho sempre sognato Andare in un safari Davvero Sì sì Che bello Allora sì che prendo l'aereo Questa volta sì Per fare belle cose Lo prendo Sì per l'unico Assolutamente Come sempre come gli altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo In un prossimo video Ciao ciao